Noi dobbiamo fare di tutto e voglio chiudere su questa domanda per evitare quei comportamenti rischiosi che sono stati detti prima, si avvicina la Pasqua, andiamo a fare la Pasquetta, assolutamente no, dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo stare ancora pienamente nel rispetto di quello che è il distanziamento sociale, lavarci spesso le mani, adottare quei comportamenti che ci stanno portando a dei risultati positivi, anche se a costo di sacrifici notevoli per il Paese e per ognuno di noi, ma lo dobbiamo fare per il nostro bene e per gli altri.